clamoroso Piacenza ha chiuso in area completamente il Renate rimessa già battuto Maio lo scambio per Palma sulla tre quarti offensiva di destra le finte il tocco per pedone ancora per Palma lo spazio per provare il cross lo effettua pallone centrale a cercare Corbari la palla su secondo palo Gonzi la mette giù il tiro deve essere Cesarini Cesarini uno uno al minuto novantatré mamma mia ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta pareggiare credo che sia Cesarini ma andiamo a rivedere bene l'azione o forse Battistini cerchiamo di capire al minuto novantatré l'ennesimo cross la palla per Gonzi il tiro e la deviazione credo che sia di Cesarini ecco il cross lo rivediamo Corbari di testa per Gonzi la mette giù in area prova il tiro e c'è forse un autorete è l'autorete da parte del numero ventuno ma che anche se autorete che ce frega l'importante è il pari del Piacenza al minuto novantaquattro sì autorete del numero ventuno da monte e il Piacenza pareggia ma a questo punto se lo merita anche perché gli ultimi dieci minuti era stato un assedio un assedio grazie a tutti grazie a tutti